Salve a tutti, proseguiamo quindi il nostro percorso relativo alla disamina dei modelli statistici. Io ricordo che nelle due precedenti occasioni abbiamo avuto modo di sviscerare abbastanza bene il modello di regressione lineare e abbiamo anche fatto un'esemplificazione sul versante dello studio delle singole variabili, delle singole componenti e anche una disamina complessiva del modello. Abbiamo detto che il modello di regressione può essere lineare e semplice quando la variabile esplicativa è unica e su quello poi abbiamo anche fatto un approfondimento maggiore ma abbiamo anche affermato che i risultati ottenuti, la logica concettuale che è alla base del modello di regressione lineare semplice si può estendere a un modello di regressione lineare multipla che è tale nel momento in cui le variabili esplicative sono più di una. Ora che cosa dobbiamo fare? Vorrei mostrarvi un compito che è stato dato in passato dal docente non tanto perché voi dobbiate svolgere il compito ma perché il compito porta a una esemplificazione abbastanza esaustiva sia di cose che abbiamo già avuto modo di affrontare sia di altri concetti che ci sono utili per entrare ancora più nel dettaglio rispetto allo studio di un modello di regressione. quindi io so che voi dovrete fare la prova orale però tenete conto che questa prova che ho davanti e che poi vi mostro man mano in realtà è un'esercitazione abbastanza semplice nel senso che non prevede calcoli e sviluppi particolari ma prevede l'applicazione appunto di determinati concetti che sono alla base del modello statistico che stiamo analizzando. Allora, provate anche voi a trascrivere questa tabella così come sta tenete conto che questi sono compiti scaricabili quindi effettivamente ce l'avete già seguitelo questo prospettino che ci sta qua e man mano che poi vengono fuori le domande noi cerchiamo non solo di risolvere tra virgolette quella che era richiesta fatta dal docente ma anche di cercare di spiegare un po' in cosa consiste la risposta. Allora, il compito parte da questa considerazione dice consideriamo un'analisi di regressione lineare multipla con le seguenti variabili IPS non salario orario, espresso in euro X con 1 esperienza lavorativa, espresso in anni e X con 2 sesso questa è una variabile dicotomica vale 0 quando siamo di fronte a persone di sesso maschile vale 1 per persone di sesso femminile ora come vedete già da questa primissima introduzione siamo di fronte a un modello di regressione lineare multipla perché le variabili esplicative sono due una è l'esperienza lavorativa espressa in anni e una è il sesso l'esperienza lavorativa espressa in anni ovviamente è una variabile quantitativa il sesso è una variabile dicotomica dicotomica sapete che significa appunto che può assumere due valori la variabile indipendente la variabile dipendente o anche detta risposta è il salario orario, espresso in euro è anch'esso una variabile quantitativa ora in questa tabella che c'è sotto voi trovate scritte tre righe una si chiama regression una residual error e una total ogni riga nei fatti corrisponde a una componente del modello noi abbiamo detto nelle scorse occasioni, nei scorsi colloqui che un modello di regressione lineare si compone di una componente deterministica che poi si estrinseca in una equazione di regressione cioè l'equazione che spiega il legame lineare che c'è tra la variabile risposta y e le variabili o la variabile nel caso di regressione semplice esplicative o esplicativa x quindi in questo caso quando ha la voce regression cioè regressione noi dobbiamo mettere assieme il legame lineare che c'è tra la y e le due variabili esplicative tra il salario orario quindi e l'esperienza lavorativa e il sesso residual error invece è la componente che ho definito come non spiegata del modello cioè la componente casuale che in qualche modo ha a che fare con gli errori total è la somma della componente spiegata deterministica quindi dell'equazione di regressione e della componente non spiegata errore non a caso ricorderete che l'ultimo argomento che abbiamo affrontato l'altra volta era l'indice di determinazione multipla che si ricavava proprio cercando di capire qual era l'incidenza della parte di regressione del modello della parte deterministica quindi della variabilità delle stime sulla variabilità complessiva del fenomeno quanto più questo indice è alto tanto più diciamo che il modello ben si adatta a spiegare la realtà del fenomeno che stiamo analizzando quanto più invece si riduce tanto meno il modello è valido e quindi si lascia una certa incidenza all'errore si lascia una certa incidenza alla parte non spiegata e quindi il modello non è buono per ora tralasciate ancora le singole colonne per ora poi dopo man mano che le affrontiamo vediamo cosa dobbiamo fare prendete poi quest'altra tabellina che sta sotto allora qua dice intercetta esperienza sesso perché dice questo? allora l'intercetta è quella che noi l'altra volta per capirci chiamavamo B con 0 beta con 0 cioè uno dei parametri di regressione che esiste a prescindere dal legame che c'è tra la Y e le X quando nell'altra volta affrontammo l'analisi dei consumi rispetto ai redditi dicemmo che beta con 0 rappresentava i consumi autonomi cioè quei consumi che si registrano nel circuito economico a prescindere dal livello di reddito percepito allo stesso modo ogni modello di regressione a prescindere da quella che sia la disamina che si sta affrontando e il tipo di legame che c'è tra le variabili in questione presuppone l'esistenza di un parametro beta con 0 che si chiama appunto intercetta poi abbiamo esperienza e sesso a fianco vedete che c'è coefficiente cioè sostanzialmente abbiamo qui in tabella i coefficienti associati sia al parametro beta 0 sia al parametro beta 1 che sarebbe il parametro associato alla variabile esperienza sia al parametro beta 2 associato alla variabile sesso ok per ora prendiamo questo in considerazione ora man mano che noi affrontiamo le domande cerchiamo anche di dare un po' di motivazione a tutte queste caratteristiche delle tabelle che stiamo prendendo in considerazione allora quello che abbiamo detto fino ad ora nei fatti significa questo significa che siamo di fronte a un modello di regressione lineare di questa natura y uguale beta 0 più beta 1 x 1 più beta 2 x 2 più epsilon questo è il modello che stiamo analizzando adesso che ha una variabile esplicativa ha una variabile risposta due variabili esplicative x 1 e x 2 abbiamo i due parametri associati alle due variabili esplicative più il parametro beta 0 che è la famosa intercetta di cui parlavo prima e la componente casuale che si chiama errore va bene ora la y se non abbiamo detto è il salario orario la x con 1 è l'esperienza lavorativa la x con 2 è il sesso cominciamo a capire qualcosina in più rispetto anche a quello che abbiamo fatto l'altra volta non è nulla di difficile io cerco di essere molto molto semplice spero di riuscirci ma giusto per darvi un po' di completezza anche informativa allora una domanda che qui viene posta io non seguo per ora non voglio seguire per forza di cosa l'ordine che sta sul compito partirei dalla lettera E del compito partirei dalla lettera E in cui dice scrivere l'equazione di regressione multipla stimata sul campione allora noi abbiamo sempre detto che questa formula è una formula generica qua poi y x1 x2 ed y restano così ma i parametri devono avere un valore se voi prendete la tabella di prima in corrispondenza di della colonna della seconda tabellina della colonna coef coefficiente avete il parametro dell'intercetta che è 9,27 il parametro beta con 1 che è 0,0428 e il parametro beta con 2 associato al sesso meno 2,19597 per cui l'equazione di regressione diventa y non uguale 9,27 più 0,0428 x con 1 più che non è un più perché il coefficiente è negativo che quindi diventa meno meno 2,19597 x con 2 più epsilon quindi io ve le ripropongo qua da vicino una sotto l'altra allora l'equazione generale generica del modello con due variabili esplicative è y uguale a beta 0 più beta 1 x1 più beta 2 x2 più epsilon l'equazione specifica di questo modello cioè quello che poi si ha nel momento in cui abbiamo stimato con il metodo dei minimi quadrati i parametri beta 0, beta 1 e beta 2 è y uguale 9,27 più 0,0428 x1 meno 2,19597 x2 ora che cosa dobbiamo dire attenzione cerchiamo di leggerlo un po' sto modello per capire cosa significano questi parametri per prima cosa e questo fa in qualche modo da da compiutezza ulteriore a quello che abbiamo già affrontato se io dico 9,27 x1 9,27 che cosa significa significa che io a prescindere dal livello che assumono sia l'esperienza lavorativa che il sesso avrò un salario orario di 9,27 euro quindi il salario orario che non dipende da nessuna variabile esplicativa è 9,27 euro poi c'ho beta 1 cioè il parametro dell'esperienza lavorativa che è 0,0428 è un valore positivo quindi si presuppone che al crescere dell'esperienza lavorativa cresca anche il salario orario però capirete che 0,04 significa che sostanzialmente l'incidenza dell'esperienza lavorativa è positiva ma certamente non è eccessiva stiamo parlando di un numero che è molto molto più basso dell'unità e poi abbiamo un altro parametro meno 2,19597 ora come dobbiamo affrontare questo parametro mentre è molto semplice capire che cosa significa al crescere di x con 1 perché stiamo parlando di esperienza lavorativa espressa in anni quindi al crescere degli anni di esperienza lavorativa cosa accade qua x2 quando è che cresce allora x2 è una variabile dicotomica dipende da quello che noi abbiamo deciso di attribuire alla variabile cioè vi spiego meglio la variabile x2 esprime il sesso dei lavoratori va bene allora io ho detto se x2 è uguale a 0 sono di fronte agli uomini se x2 è uguale a 1 sono di fronte alle donne un incremento unitario di x2 significa che io passo dall'uomo alla donna sostanzialmente e questo significa anche che se il coefficiente parametrico beta 2 è negativo addirittura meno 2,19 eccetera eccetera significa che passando da uomo a donna c'è un decremento del salario più che proporzionale rispetto al cambio di sesso cioè non so se mi spiego allora passare da uomo a donna fa ridurre di due volte il salario orario percepito per le donne è più che doppio il gap rispetto agli uomini in termini di salario orario percepito spero di essere stato più chiaro adesso ho voluto fare un po' di 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 gradualità diciamo rispetto all'espressione sia per spiegare il numero sia per spiegare poi in concreto cosa significa quindi il fatto che beta 2 sia negativo ci dice che sostanzialmente le donne sono penalizzate sul versante del salario orario che è una cosa risaputa che nel senso che chiunque legga un po' di 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 organi di informazione legge di questo gap che comunque non si riesce ancora a sanare questo modello ci dice addirittura che insomma il gap è abbastanza importante ok quindi abbiamo letto nei fatti abbiamo letto questa cosa questo modello andiamo avanti la prima domanda che viene posta dal docente che ci serve anche per riprendere un po' le fila del discorso è questa qua lettera a quali sono i gradi di libertà associati alla somma dei quadrati della regressione a luce dovete sapere una cosa quando si fa un modello si affronta un modello di regressione si fa una disamina complessiva del modello e poi si fa anche un'analisi delle singole componenti abbiamo detto che la regressione il modello si compone di due componenti più di un totale la componente deterministica si chiama proprio regressione in senso stretto poi ci stanno gli errori e poi il totale appunto è la somma di regressione più errori quando io dico gradi di libertà associati alla somma dei quadrati della regressione intendo dire qual è il numero di regressori utilizzati nel modello cioè qual è il numero di variabili esplicative utilizzate per spiegare il comportamento di Y nel nostro caso le variabili esplicative sono due esperienza lavorativa e sesso e quindi il numero di gradi di libertà associata associati chiedo scusa alla somma dei quadrati della regressione quindi solo la prima parte diciamo quella deterministica è uguale a 2 è molto semplice come vedete come domanda come vedete sta domanda che è stata fatta chiedo scusa sta domanda che è stata fatta in un compito in realtà è una domanda che si può fare tranquillamente a un esame orale come voleva si dimostrare così come quella di prima se lui vi da una tabella e vi dice vi chiede delle cose o non è che dovete fare calcoli particolari dovete essere intuitivi e razionali al tempo stesso cioè intuitivi dal punto di vista visivo riuscire a capire dove andare a pescare e razionali nel senso che avete le basi poi per dare delle risposte valide seconda domanda che fa aggancio un po' all'argomento che stiamo affrontando calcolare la somma dei quadrati della regressione allora ragazzi prendete prendete la prima tabella questa qua e prendete la prima colonna della tabella ovviamente a prescindere dalla fonte da regressione errore errore e totale questa qua SS questo si chiama somma dei quadrati questa è utile perché ci serve a spiegare la variabilità delle varie componenti del modello qua avete regressione con un bondo interrogativo cioè è incognita ed è quella che noi dobbiamo calcolare poi avete la somma dei quadrati dei residui e la somma dei quadrati totali come abbiamo detto in un altro modo ma abbiamo detto già per un modello di regressione lineare semplice quando abbiamo detto la variabilità totale è uguale alla somma della variabilità delle stime quindi della variabilità di regressione più la variabilità dei residui allo stesso modo la somma dei quadrati della regressione sto total che sta sotto SS associato a total quindi 14076,7 è uguale alla somma dei quadrati della regressione più la somma più i quadrati la somma dei quadrati della regressione e dei quadrati dei residui quindi se la somma totale ce l'abbiamo e abbiamo anche la somma dei quadrati degli errori per differenza ci calcoliamo la somma dei quadrati della regressione per cui dovete fare semplicemente la somma dei quadrati della regressione è uguale a somma dei quadrati totali 14076 176,7 meno somma dei quadrati dei residui 13333,47 ed è uguale a 743,23 ok? come vedete stiamo facendo una cosa molto semplice stiamo estendendo tutto il ragionamento fatto nelle prime due occasioni di colloquio che abbiamo avuto a un modello un po' più ampio ma grossomodo differenze importanti al momento da un modista concettuale non ne abbiamo calcoliamo calcoliamo la media dei quadrati dell'errore che si chiama min square error mse mse allora anche qua bisogna fare una cosa molto 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 semplice voi dovete considerare questo dalla tabella che c'è qui avete una numerosità complessiva questo DF che è uguale a 533 quella associata agli errori è uguale a 531 e vi spiego perché poi c'è un DF incognito che si riferisce alla regressione ovviamente quel DF la dimensione dei regressori è 2 sarebbe la numerosità dei regressori allora così come la numerosità totale la variabilità totale tiene conto della variabilità di regressione più la variabilità degli errori e quindi per differenza la variabilità degli errori dei residui è la differenza appunto tra la variabilità complessiva e la variabilità di regressione allo stesso modo quando questo questo DF che avete in tabella come seconda colonna della prima tabella per i totali sarà uguale al totale che dipende ovviamente da quello che voi state analizzando per gli errori sarà pare la differenza fra il totale e il numero di regressori quindi avendo il totale pare a 53 per gli errori sarà sempre uguale al totale complessiva n meno 2 nel nostro caso meno 2 perché abbiamo due regressori se aveste avuto un modello con 3 variabili esplicative sarebbe stato 533 meno 3 se aveste avuto un modello con 4 533 meno 4 e così via quindi la media dei quadrati degli errori altro non è che la somma dei quadrati degli errori cioè questo S S E che sta qua che abbiamo già visto prima S S E 1333 47 diviso appunto sto 531 ed è uguale a 25,11 media dei quadrati degli errori quindi la somma dei quadrati degli errori fratto la numerosità associata agli errori che in un modello di regressione è pari a n cioè la numerosità complessiva meno il numero dei regressori alias delle variabili esplicative nel nostro caso sono due lo ripeto per la millesima volta e quindi la dimensione associata agli errori è 531 ora vediamo anche qua una cosa che a noi interessa molto perché l'abbiamo già affrontata ma la possiamo appunto considerare per un modello a più variabili ci dice calcolare un indice della bontà di adattamento dell'equazione di regressione ai dati ora quando io ho in qualche modo provato ad illustrare il modello di regressione in area semplice quello con una sola variabile esplicativa avete sentito che l'indice della bontà di adattamento era pari alla variabilità associata alle stime della x quindi dipendeva da x nei fatti fratto alla variabilità complessiva dei valori osservati nella sostanza non è cambiato nulla solo che quando avete un modello di regressione lineare multipla con più variabili esplicative dovete considerare al denominatore la somma dei quadrati dei totali si dice così che sarebbe la variabilità complessiva del fenomeno della y al numeratore la somma dei quadrati di regressione che sarebbe comunque la somma dei quadrati delle stime solo che mentre nel modello di regressione lineare semplice voi avete una sola variabile esplicativa qui la somma dei quadrati di regressione dipende da due variabili esplicative tutto qua però se voi prendete la tabella questi dati ce li avete mi spiego meglio come ce li abbiamo ce li avete perché perché voi avete prendiamo la prima sempre avete la somma dei quadrati dei totali 14000 si 14000 076 7 che sarebbe il nostro denominatore il numeratore la somma dei quadrati di regressione voi mi direte si ma io nella tabella non ce l'ho lo so che non ce l'avete ma l'abbiamo calcolato di prima ne abbiamo calcolato per differenza facendo la somma dei quadrati dei totali 14000 073 virgola 14000 076 virgola 7 meno la somma dei quadrati degli errori 13347 quindi la somma dei quadrati di regressione ma facciamo una cosa io ve li segno qua i passaggi che abbiamo fatto allora dove sta ss associato a regressione è 743 virgola 23 l'abbiamo calcolato prima poi abbiamo anche affrontato il min square error quindi la media dei quadrati degli errori e abbiamo detto che questo è uguale a 25 virgola 11 ok allora qui nei fatti per calcolare l'r quadro dovete fare la somma dei quadrati di regressione che è questo 273 743 virgola 23 scusate fratto la somma dei quadrati dei totali che è 14000 76 virgola 6 ok e quindi vi viene che l'r quadro provo a scrivervelo da quest'altra parte in modo che ce l'avete abbastanza ben visibile 743 virgola 23 diviso 14000 0 76 virgola 7 che è uguale a 0 528 l'ho scritto in alto questo è l'r quadro lo vedete ora che significa questo numero questo numero significa che il modello onestamente non è proprio buono cioè in termini percentuali significa che solo il 5 virgola 28 per cento della variabilità del salario orario è spiegata dalla relazione lineare che lo stesso salario orario c'ha con le variabili esperienza e sesso detto in termini ancora più banali se voi fate 1 meno 0,0528 proviamo a farlo 1 meno 0,0528 è uguale a 0,9472 sapete sapete che significa che c'è il 94,72% del fenomeno che non è spiegato dalla relazione lineare che abbiamo individuato quindi le variabili sia quella del sesso che quella dell'esperienza lavorativa obiettivamente non spiegano più di tanto il comportamento della variabile salario orario ora questa spiegazione un po' più ampia qua non c'è sul compito perché si limita in qualche modo a dare una cosa un po' più sintetica però è la vera verità abbiamo detto che l'R4 come indice è compreso fra 0 e 1 quanto più si avvicina a 1 tanto più vuol dire che l'equazione di regressione è idonea a spiegare il comportamento del fenomeno che stiamo studiando quanto più si allontana da 1 quindi si avvicina a 0 tanto meno l'equazione di regressione è adatta a spiegare il modello che stiamo analizzando il fenomeno e quindi la sua relazione lineare con le variabili esplicative qua avete che l'incidenza della regressione quindi delle variabili esplicative utilizzate si aggira intorno al 5% vuol dire che il 95% del peso è tutto sulle spalle dell'errore ma allora non stiamo parlando più di errori o di residui perché si chiamano residui quelli perché la componente casuale del modello dovrebbe essere una componente residuale a vantaggio della componente deterministica che invece dovrebbe incidere in maniera molto più pregnante e questo non accade in questo caso quindi vuol dire che il modello non è buono abbiamo scelto variabili sbagliate ora facciamo un passetto avanti io vi ho detto prima vi ho detto prima che cosa vi ho detto prima vi ho detto che quando si analizza un modello di regressione si fa una disamina complessiva e una disamina anche dei singoli parametri si valuta la significatività dei parametri allora prima di proseguire con il compito che vediamo più nel dettaglio anche la prossima volta io vi devo prima però spiegare per un fatto di correttezza che cosa si intende per test delle ipotesi statistiche che è un argomento appunto diciamo di teoria che ha poi risvolti pratici che può essere oggetto d'esame allora la statistica vi ho detto io all'inizio se non sbaglio è la scienza delle decisioni in condizioni di incertezza tutto quello che voi affermate in statistica è sottoposto a un vaglio probabilistico non a caso la probabilità è il concetto più importante della disciplina statistica è quello che sta alla base di tutto voi non analizzate la statistica per vincere l'artotocalcio o al superenalotto o perché se siete bravi in statistica avete condizioni più favorevoli da ciò che attiene al caso no la statistica è l'esatto opposto la statistica è una scienza probabilistica in quanto tale prevede che ci siano decisioni attendibili ma non certe e allora affermare che un parametro è significativo in statistica presuppone che questa stessa affermazione venga sottoposta a un test delle ipotesi statistiche un test delle ipotesi altro non è che un ragionamento che si fa rispetto a un parametro cioè io dico è statisticamente vero diciamo che il parametro beta con zero vale tot il parametro beta con zero è statisticamente diverso da zero perché può anche valere un numero che non sia zero zero spaccato proprio preciso ma quel numero pur non essendo zero potrebbe avere importanza nulla da un punto di vista del ragionamento statistico proprio perché noi facciamo analisi che o sono campionarie o comunque pur non essendo campionarie pur facendo poi inferenza da popolazioni cosiddette infinite mentre un campione consente di fare inferenza da una popolazione finita di soggetti pur facendo inferenza da popolazioni infinite in realtà siamo di fronte a decisioni che comunque vengono prese in uno stato di incertezza o se preferiamo in uno stato di attendibilità probabilistica allora il test delle ipotesi statistiche è molto semplice si prende un parametro e lo si pone uguale a un valore in quella che si chiama ipotesi nulla del test l'ipotesi nulla di un test è l'ipotesi che io voglio rifiutare la sottopongo a verifica perché spero che non sia vera mi metto nella peggiore delle ipotesi possibili si chiama ipotesi nulla l'ipotesi alternativa è quella che nega l'ipotesi nulla esempio io dico ipotesi nulla beta 0 uguale 0 parametro beta 0 uguale 0 statisticamente parlando l'ipotesi alternativa può essere o che è maggiore di 0 o che è minore di 0 o che è diverso da 0 ora quando io nell'ipotesi alternativa specifico una determinata direzione del parametro cioè è più grande di quello che c'è nell'ipotesi nulla è più piccolo di quello che c'è nell'ipotesi nulla il test si chiama unidirezionale quando invece io affermo esclusivamente la diversità senza pronunciarmi rispetto ad essere maggiore o minore del valore affermato nell'ipotesi nulla io sto parlando di test bidirezionale quindi dire beta con 0 è diverso da 0 presuppone che io sto facendo un ragionamento sul test bidirezionale tengo conto sia del dato positivo se del dato negativo la mia speranza ripeto è che il test mi dia il rifiuto dell'ipotesi nulla ma che significa fare un test fare un test significa confrontare il parametro che ho che ho posto da un parametro che ha un suo valore per esempio il parametro beta 1 del nostro modello abbiamo detto che vale 0,028 428 quindi non è 0,0 proprio 0 preciso è 0,04 allora quello è il parametro che io ho stimato e nei fatti è la stima del mio parametro quel parametro lo confronto con 0 che è quello che io pongo nell'ipotesi nulla perché nell'ipotesi nulla io pongo l'ipotesi che questo parametro sia statisticamente nullo non abbia alcuna importanza rilevanza questo confronto non basta presuppone che poi al denominatore vi sia un indicatore di variabilità che si chiama deviazione standard del parametro la deviazione standard per chi ha affrontato studi statistici di base altro non è che la radice quadrale della varianza ok allora tutto sto ragionamento mi determina quella che si chiama statistica test stima del parametro meno 0 fratto la sua deviazione standard e ottengo la statistica test tale statistica la devo confrontare con un valore che si trova sulle tavole probabilistiche di statistica le tavole probabilistiche sono a loro volta associate a determinate variabili casuali che possono essere la variabile casuale normale la variabile casuale t di student su tutte poi ci sta la variabile casuale chi quadrato la variabile casuale f di fisher queste sono le 4 variabili casuali a cui sono associate le tavole probabilistiche attenzione quando io non conosco la deviazione standard del parametro ma me la devo stimare anche quella io sono di fronte alla variabile casuale t di student altrimenti sono di fronte alla variabile casuale normale questo per quanto attiene al parametro di regressione quindi io ho parametro beta 1 meno 0 quindi valore di beta 1 meno 0 che è quello che c'è nell'ipotesi nulla diviso questa deviazione standard di beta 1 attenzione io non vi voglio assolutamente allarmare però poiché i modelli statistici si ottengono attraverso dei software voi in questa tabella non solo avete il valore dell'intercetta di beta 1 e di beta 2 e stanno qua coef ma avete anche le loro deviazioni standard quindi quando la domanda fatta è la variabile esperienza ha un effetto statisticamente significativo sulla variabile salario-orario vi sta chiedendo la variabile esperienza serve ai fini del modello sì o no questo è insomma la fanno poco con torta ma che stai voi dovete fare il test dell'ipotesi vi dovete costruire la statistica test quindi beta 1 il valore di beta 1 sapete che è uguale a 0,0428 sta su questa tabella meno 0 perché nell'ipotesi nulla voi ponete che sta variabile non sia significativo quindi il parametro sia nullo fratto la deviazione standard che sta anche in questa tabella che è 0,01758 vi viene 2,434 vabbè mi direte voi già capite ma poi c'è questo valore questo valore o lo confrontate con direttamente andando a prendere le tavole della td student perché abbiamo detto che la variabile in questione è una td student in quanto non c'è la deviazione standard data è stimata sul modello oppure siete talmente fortunati in questa tabella che il professor vi ha dato anche il p-value che sarebbe il valore probabilistico di riferimento allora il p-value associato alla variabile esperienza è 0,0153 allora che si fa ascoltate bene ragazzi rispetto alla decisione che dobbiamo prendere se la statistica test è più grande del p-value cioè del valore probabilistico che c'è su questa famosa tavola rifiutiamo l'ipotesi nulla se la statistica test è più piccola del valore che c'è su questa tavola probabilistica accettiamo l'ipotesi nulla in realtà la logica statistica vuole che si parli di rifiuto che è quello che io realmente desidero o non rifiuto allora nel nostro caso la statistica test 2,434 è più grande del p-value quindi p-value con quanti gradi di libertà 531 cioè i gradi di libertà associati alla regressione voglio dire gradi di libertà attenzione forse vi ho confuso dovete tener conto di una numerosità statistica chiedo scusa pari a 531 perché i gradi di libertà della regressione sono 2 la numerosità complessiva è 533 e quindi come vedete qua sopra abbiamo una numerosità complessiva pari a 533 meno i due parametri di regressione è del 532 quindi nei fatti siccome la statistica test è più grande del p-value che è questo valore probabilistico di riferimento con cui si fa il confronto allora rifiutiamo l'ipotesi nulla e quindi nei fatti affermiamo che il coefficiente beta 1 che è quello associato alla variabile esplicativa x con 1 che a sua volta rappresenta l'esperienza lavorativa è significativamente diverso da 0 perché nell'ipotesi nulla che rifiutiamo affermiamo che beta 1 è uguale a 0 nell'ipotesi alternativa affermiamo che non è uguale a 0 dire questo però significa anche che la variabile esperienza una certa incidenza sul salario orario ce l'ha se fosse stata invece vera l'ipotesi nulla vera statisticamente cioè con una certa probabilità ciò si chiamiamo di p-value probabilità valore probabilistico se fosse stata vera l'ipotesi nulla allora noi avremmo concluso dicendo che l'esperienza lavorativa non ha alcuna incidenza rispetto alla determinazione del salario orario e quindi avremmo potuto tranquillamente eliminarla dal modello un'ultima cosa e poi mi fermo a un certo punto il docente dice anche calcolare il valore del test f il test f è molto semplice da calcolare dovete fare il confronto fra l'MS si chiama il min square della regressione che sarebbe la media dei quadrati della regressione fratto la media dei quadrati degli errori min square error che abbiamo calcolato prima il min square error ora ve lo scrivo qua perché prima ce lo siamo calcolati anzi no usiamo questa quest'altra qua che già ve l'abbiamo scritto ecco qua allora il min square error era 25,11 cioè la media dei quadrati degli errori la media dei quadrati della regressione è uguale a 371 e 615 il test f è il rapporto tra questi due valori attenzione non fate confusione il test f mette in relazione la media dei quadrati della regressione con la media dei quadrati degli errori cioè confronta le due componenti del modello mentre l'r quadro confronta la componente regressione sul totale del modello quindi mi calcola l'incidenza delle variabili esplicative nei fatti sul totale del fenomeno sul comportamento di y questo test f confronta le due componenti del modello ok e quindi sostanzialmente ci dice di quante volte l'MS della regressione supera o meno l'MS quindi la media dei quadrati di regressione è più grande della media dei quadrati degli errori torno un attimo al test dell'ipotesi di prima che è più più complesso ed anche più più compiuto noi abbiamo detto ragioniamo questa può essere una domanda che il docente vi può fare abbiamo detto che l'R quadro è uguale al 5,28% è basso bassissimo cioè il modello spiega solo il 5% poi abbiamo fatto un test sulla variabile esperienza e abbiamo detto che la variabile esperienza ha un parametro statisticamente diverso da zero quindi ha una sua incidenza sulla spiegazione del salario orario allora ma io vi ho detto pure se l'R quadro è così basso vuol dire che il modello è sbagliato quando un modello è sbagliato due sono le cose o abbiamo scelto variabili che non funzionano oppure ne abbiamo scelte poche cioè se io avessi avuto una variabile esplicativa esperienza statisticamente insignificante l'avrei tolta dal modello ma non è così il test delle ipotesi che ho fatto io sul parametro beta 1 mi dice l'esatto opposto cioè mi dice che la variabile esperienza una sua incidenza ce l'ha perché il parametro a cui è associata quella variabile è significativamente diverso da zero da un punto di vista probabilistico statistico e allora io quella variabile non la posso eliminare significa questo che devo aggiungere altre variabili per spiegare il salario orario non posso limitarmi alle due variabili che ho utilizzato io cioè l'esperienza e il sesso io mi fermo qua perché credo di avervi detto un bel po' di cose la prossima volta affrontiamo anche il concetto di intervallo di confidenza di un di un parametro che ovviamente si può utilizzare per un modello statistico ma si può utilizzare anche per un parametro che prescinde da un modello statistico così come quello di test delle ipotesi io per esempio sono interessato a fare un'indagine sull'altezza media di una popolazione io su quel parametro e sulle stime che ottengo posso fare sia il test delle ipotesi che l'intervallo di confidenza la prossima volta partiamo dall'intervallo di confidenza e lo applichiamo poi al caso che stiamo esaminando per approfondire ulteriormente le dinamiche di questo modello magari dopo la prossima sostanzialmente possiamo anche dire di aver finito poi valutiamo in corso d'opera se dobbiamo fare qualche altra cosa o meno per ora cominciate a partendo da questo compitino che sta qua che avete sulla piattaforma e che potete scaricare e che è in qualche modo parzialmente illustrato cominciate a studiare queste cose questi concetti e state sereni perché secondo me questo è un esame che potete superare tutti brillantemente grazie per l'attenzione e spero di farmi vivo presto buona serata grazie per l'attenzione